Io sono molto emozionata, sto molto emozionata, perché io amo Italia, io amo Macerata. Da che sono molto piccola, mio padre, mia famiglia, sempre noi parliamo di Italia, parliamo di Macerata. E' Macerata nel mio cuore. E oggi è molto speciale, perché io ho la cittadinanza della città, della villa, della città, e per me è una cosa molto importante. Un augurio per le popolazioni terremotate. Sì, è lo miglior del mio coraggio, io li abbraccio e voglio che non ci sia mai qualcosa che li danni, li lastimi. Credo che avremo molti anni buoni in Macerata. Grazie. Il Presidente del Consiglio ha detto che lei contribuisce a far conoscere e amare di più Macerata nel mondo. Sì, sì, sì. Sto molto convenzita di aiutare all'Argentina a essere conosciuta, a fare conosciuta Macerata all'Argentina. Io voglio lavorare a questa cosa. Grazie. Grazie.